Non facciamo tanto gli spiritosi che oggi non le giornate, vai giù in piscina a lavorare, forza andare, fanullone e stai attento che ti controllo con la coda dell'occhio eh Sì, ti ho sentito con la criniera dell'orecchio, stiamo buono E' uscito su Amazon il libro non solo Loris Batacchi, compratelo, vi piacerà